Il ritmo nero è stato il terreno fertile su cui si sono sviluppate le sonorità bianche tipiche del rock. Protagonisti di alcuni dei momenti più alti della storia del rock sono stati tuttavia quegli afroamericani che negli anni 60 hanno finalmente fatto sentire la propria voce. Con forza, corpo, spirito rivoluzionario ma anche dolcezza infinita. È il caso di Jimi Hendrix, icona ed attrazione principale del più importante concerto di sempre, Woodstock. Per voi la sua Little Wing nella rielaborazione degli Ura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.